Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nell'angolo di Claudio Oggi parliamo della famosissima partizione Home Nella fattispecie ragazzi si sto parlando materialmente del mondo Linux ma anche del mondo Windows Perché oramai penso che tutti conosciamo le meccaniche di un sistema operativo Nella fattispecie per esempio Windows va a utilizzare una cartella utente Dove all'interno abbiamo documenti, immagini eccetera Generalmente è insieme al sistema sullo stesso disco fisso Poi noi possiamo spostare queste cartelle dal pannello di controllo oppure manualmente archiviamo su un altro disco Io ringrazio per questo video Remigio che mi aveva lasciato questo commento che state avendo in questo momento a schermo Dove mi chiedeva appunto come poter fare questa procedura su Linux E oggi vedremo entrambe le procedure Se avete però un'installazione in essere di Linux vi lascio una guida qui sotto in descrizione Dove vi spiega come spostare le cartelle su un'altra partizione o comunque su un altro disco fisso Trovate tutta la procedura che si fa da terminale qui sotto in descrizione Bene, andiamo con ordine Quindi partiamo da Windows e tanto ci sbrigiamo subito Qui abbiamo la cartella come dicevo utente Con il mio nome e cognome che solo io posso usare e mostrare nei video Piccola frecciatina ma neanche più di tanto Qui abbiamo il disco locale C ed è contenuta appunto la mia cartella utente Ora poniamo il caso che avete solo un altro disco quindi 250 GB SSD e il vostro secondo disco di backup Come vedete qui ci sono cartelle ma non c'è la cartella utente Per spostarla come si fa dobbiamo andare su impostazioni in di start Impostazioni sistema Spostarci su archiviazione E andare qui impostazioni di archiviazione avanzate Scendiamo e troviamo percorso di salvataggio di nuovi contenuti Qui abbiamo un bel po' di opzioni E qui possiamo spostare la cartella documenti sul mio disco secondario O se come me avete più di un disco scegliete quello che più vi piace E fate applica Spostiamo anche musica e immagini insomma tutte le cartelle del caso Qui non trovate la cartella download perché la gestite dal vostro browser web predefinito Quindi dalle impostazioni del browser web scegliete se chiedere sempre il percorso di download O scaricare direttamente nella cartella download che avete creato voi su un qualsiasi disco o partizione Quello che sia Ora tornando al nostro disco come vedete si è creata la cartella cloud perché risparmia E abbiamo documenti musica e picture Un po' rococo nelle traduzioni ma vabbè Ora io me lo vado a rimpostare perché si può fare tranquillamente selezionando di nuovo il disco locale C Applica, applica, ok E andiamo a vedere invece la procedura per quanto riguarda Linux Quindi abbiamo una bella live di Ubuntu Qui nella fattispecie vi farò vedere questa macchina virtuale con due dischi da una cinquantina di giga Dove andremo a fare la procedura con un singolo disco Quindi partizioneremo il disco per sistema e home Oppure metteremo la home su un disco separato Allora andiamo a avviare l'installazione Ripeto se avete un'installazione in essere innanzitutto state molto attenti E in secondo luogo c'è la guida in descrizione Perché non c'ho voglia di mettermi lì a scrivere fiumi di codici Poi non comprendete, mi dite che non funziona Quindi vi lascio la guida dal wiki di Ubuntu qui sotto in descrizione Allora l'installer oramai di Ubuntu bene o male lo troviamo in tutte le distro A parte quelle che usano Calamares o altri installer personalizzati Io vi schippo alcune parti Quindi qui andiamo avanti E ci soffermiamo sul partizionamento del disco Eccolo qua Quindi lui in genere fa l'installazione con Utilizza tutto il disco e installa Ubuntu Voi dovete scegliere altro Da altro andiamo a utilizzare vero e proprio G-Parted sostanzialmente Né più né meno Qui come vedete abbiamo SDA ed SDB Che è il mio disco secondario Entrambi da 50 Rottigiga Qui possiamo selezionare device per l'installazione del bootloader Molto importante che sia lo stesso dove risiede la root Quindi selezionate in questo caso il disco 1 Perché questo è l'esempio Con l'installazione del sistema e partizione home sullo stesso disco Quindi SDA Nuova tabella di partizioni Avanti E ci andrà a creare lo spazio libero Come vedete 53.687 MB Tradotto in spicci 53 giga e 700 Tasto destro Aggiungi E andiamo a crearci lo spazio per il sistema e relativi programmi Quindi io qui darei 30.000 Quindi 30 giga al sistema Regolatevi voi in base alla dimensione del disco E a quanti programmi installate E soprattutto alla pesantezza del sistema che andate a utilizzare Qui facciamo un esempio Quindi daremo 30 giga al sistema E una ventina per la partizione di home Qui usa come file system XC4 Va benissimo Punto di mount Dovete scegliere lo slash Quindi la root Come vedete poi abbiamo boot, home, eccetera Quindi slash, ok E ci darà lo spazio residuo Che come vedete è 23 giga Ora, se avete poca RAM Dovete andare a creare anche una partizione di swap Quindi diciamo che 4 giga Vi consiglio di fare la partizione di swap Sopra i 4 giga Non ha tanto senso Quindi tasto destro Aggiungi E da qui andiamo a dare 4.096 Quindi 4 giga File system Dobbiamo scegliere area di swap E diamo ok Così ci darà il residuo per la nostra partizione home Ecco qua All'incirca 20 giga Tasto destro Aggiungi Manteniamo tutto lo spazio stavolta E da qui da punto di mount E da qui da punto di mount mettiamo home Ok E abbiamo realizzato la nostra partizione home separata dal sistema Ora, sostanzialmente la stessa cosa era con disco separato Perché questa non la creavo Lasciavo più spazio possibile per il sistema 4 giga eventualmente di spazio per la swap E poi andavo qui Tasto destro Nuova tabella di partizioni Avanti E anche qui Andavo a utilizzare tutto lo spazio Per la cartella home Quindi tasto destro Aggiungi E davo appunto Tutto I 53 giga Alla home Punto Più semplice di così Si muore In questo caso ora poi andrò a cancellare Perché se no lui impazzisce Quindi andiamo a cancellare il tutto Però con un secondo disco ragazzi sostanzialmente si faceva così Andiamo avanti Quindi finalizziamo questa installazione Sì per AFI c'è problema ma andiamo avanti Avanti Qui ci fa il riepilogo con la partizione XT4 del sistema La swap e la nostra home In caso poi di reinstallazione del sistema Dobbiamo stare attenti Ma ora vi faccio vedere finalizzando questa installazione Il nome utente ragazzi State attenti ad utilizzare poi sempre lo stesso In fase di formattazione Perché se no il sistema non vi andrà a leggere Le cartelle presenti nella partizione home E avete fatto un prospero 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Perché non gliene frega niente Che c'è la partizione Ma lui vuole trovare il medesimo utente In caso di più utenti dovete ricrearli Per come li avete creati Quindi Claudio Peppino Marcuccio Li dovete fare Di conseguenza Io vi consiglio sempre un singolo utente Perché poi è un delirio Allora qua sta installando il tutto Noi ci vediamo appena ha concluso l'installazione Perché andrò a riavviare l'installer E simuleremo appunto State rimettendo il sistema Magari o lo stesso sistema O un altro sistema Linux E volete recuperare la vostra cartella home Così non avete lo sbattimento Di dover Travasare i dati E poi ricopiarvi la cartella home Anche se Ragazzi Nel caso di Disco separato Non avete problemi Perché fate Cancella intero disco Nel primo E nel secondo Vi resterà la home Però dovete fare sempre Il partizionamento manuale Creando la root E swap Quindi la cartella home Sarà nell'altro disco Che avete già collegato All'interno del computer Allora qua sta finendo Ci vediamo tra un istante per voi E non so per quanto tempo Per me A dopo A few moments later Bene ragazzi Rieccoci Ho riavviato la macchina virtuale Mettendo sempre L'app and drive Di Ubuntu Quindi andiamo a reinstallare Il tutto Ma è una procedura Di poco fa Però dobbiamo avere Un'accortezza In particolare Allora Andiamo a selezionare La lingua italiana Ok Ripeto Questi passaggi Sono sempre gli stessi Installazione normale Scarica gli aggiornamenti Durante l'installazione Poi vabbè Driver di terze parti Eccetera Allora Andiamo a Avviare il tutto E soffermiamoci Sul partizionamento Del disco E sull'utente Che come vi dicevo Dovrà essere lo stesso Che abbiamo utilizzato Nella prima installazione O comunque Di norma Il nostro nome Utente Non dovete cambiare Alcuna lettera Come vedete Mi vede L'installazione Di Ubuntu Dobbiamo fare Altro Perché non devo installare Né a fianco Né cancellare Il tutto Quindi facciamo Altro Qui Mi andrà a vedere Le mie partizioni Come potete vedere Abbiamo La partizione Di sistema Da 30 giga Quella sconosciuta Di swap E questa Che è quella Per i dati Noi ci aiutiamo Con La partizione Di swap Che sta nel mezzo E poi vabbè Conosciamo la dimensione Sia della partizione Dei dati Che di sistema Allora Per quanto riguarda Quella di sistema Tasto destro Modifica Qui dobbiamo mettere Sempre file system XT4 Formattazione Della partizione E riselezionare Il punto di mount Ok Stessa cosa Con la differenza Che non dobbiamo Formattarla Quindi tasto destro Modifica La partizione Di swap Area di swap Ok E andiamo A segnare Di questa Dopodichè Partizione Dei dati Tasto destro Modifica Irridiamo Solo il file system Quindi XT4 E punto di mount Home Non mettete Formattazione Della partizione Perché andrete A distruggere Praticamente Il tutto Ok Stessa cosa Ragazzi Se la partizione Di home Era sul SDB Quindi sul Disco 2 Andate a selezionare La partizione Tasto destro Modifica Ridate Il file system E il punto di mount Non selezionate La casella Di formattazione Qui Selezionate sempre Bootloader Il disco Principale Dove è presente La partizione Di root In questo caso SDA E potete Finalizzare Il tutto Fate install Andate a Confermare Qui Perfetto Vi fa Il riepilogo Di quelle Che andrà A toccare Quindi quella Dati Come vedete Non c'è Andiamo Avanti Quella di swap La formatta Ma tanto Non ce ne frega Nulla E qui All'altro passaggio Dopo la località Ridate Il medesimo nome Per una questione Di permessi E una questione Che andrà A leggere La cartella Home Con quel Nome utente Ok Diamo La stessa Password 1231234 E poi Procedete Con L'installazione Bene ragazzi Spero che questo video Vi torni utile Se così fosse Lasciate un like Iscrivetevi al canale Attivando la campanella Siamo già 6160 Non lo so neanche più io Perché Andate aumentando Di giorno in giorno Mi fa super piacere Potete supportare Anche il canale Dai link Presenti In descrizione Dove trovate Tutta la mia attrezzatura Sono affiliato Con amazon Quindi a voi Non cambia nulla Ma date un piccolo Supporto al canale A ogni singolo Acquisto E quindi Io vi ringrazio Se lo fate E nulla Ragazzi Ringrazio ancora Remigio Per il commento Mi ha fatto piacere Realizzare questa guida Spero che Vi piaccia Anche a voi E noi Come sempre Ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao